La tecnica ha funzionato! Ragazzi la tecnica ha funzionato! Bella a tutti ragazzoni benvenuti in questo nuovo errimo video! Eccolo proprio lui, il tortellone! Ragazzi quando sto così carico c'è solo una risposta, cioè C'è stop in ingles! Scappato l'aggiornamento! Ragazzi, cioè allora, uno per l'aggiornamento dovete lasciar like Due dovete lasciar like per sta face Tre dovete lasciar like solamente per sta robetta Te, te, beccate sta robetta su, becca su, becca su Ragazzi, soglia 51, tutta quanta per lui Lupazzo Byron! Ragazzi ci siamo, ci siamo Io spero di trovarlo, ovviamente, ovviamente Spero e sicuramente lo troverò Quindi io direi bando alle cianci scuole ragazzi E iniziamo subito Avete voglia ragazzi, a parte che mi metto su rubare gali perché mi devono fare sto gift Cioè senza fare scherzi Bando alle cianci si inizia Vai, iniziamo dalla cassa blu raga Cassa blu si inizia con lei Con lei Allora, 46 monete, lo schifo Raga, volevo, volevo effettuare eh Volevo effettuare, dimmi una specie di tecnica Blu-viola-gialla Poi rifaccio blu-viola-gialla E poi le apro, come mi capitano Questo qui era la tecnica, non lo so perché ragazzi Mega cassa così Sto qua, sto qua, sto qua, sto qua Dai, dai, fammi trovare il vecchietto col bastone Mamma mia, mamma mia regà, non succede Mamma mia ragazzi, non succede ma se succede Non succede ma se succede Non lucca, non lucca, non lucca Mamma mia, l'abilità stellare Bene, bene Va bene ragazzi, bombe incendiarie Ci siamo, ci siamo Mi devo dire sulla manica Mi devo dire sulla manica la professionista Osho Le bombe lancione del mortale di Penny incendiano il terreno per 3 secondi Implicano 400 mele E danno al secondo i nemici che si trovano nell'area colpita Ok, va bene, il danno al secondo Ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo Ragazzi, intanto nel carrellino della spesa ce l'abbiamo messa Carrellino della spesa ci sta una bella stellarina di Penny che ci serviva Ovviamente Ragazzi, se la trovo su quella blu, vado fuori di mela Io ve lo dico Apriamo la numero 3, viola E poi mi devono aprire una mega gassia Una mega gassia Ci ha portato bene ragazzi la tattica E vai Mamma mia Aprimi, ci siamo Mamma mia L'ho detto, l'ho detto Ragazzi, sta qua dentro Io non so come dirvelo Ma sta qui dentro, regà Adesso Se il mio predict è esatto Dovete mettere like e dovete condividere il video Perché, regà, c'ho lo sculo tatti Che is a very very fucking legend Mamma mia Eccolo Eccolo, regà Plugin della spesa Mettiamo la spesa Ricariciamoci Ricariciamoci Stiamo qua Quando 8-bit si trova vicino al suo potenziamento Al suo potenziadanni A modo di migliorare il suo software E aumentare la velocità di movimento Plouf Ci siamo boostati E ora lo troviamo Andiamo Così La tecnica ha funzionato Ragazzi, la tecnica ha funzionato Lo spolpo ragazzi Sto gioco Lo spolpo Dopo quando? 6 gasse L'abbiamo trovato dopo 6 gasse ragazzi Lasciate il like Lasciate il like Che sono animale Brawler mitico 7 2 geni 3 geni 5 genio Biron vende una serie di potenti medicinali Innovativi Ma non chiamarlo Charlatano Mamma mia Ma che ti chiamano Charlatano Vincchio Che ti chiamano Bellissimo 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 ragazzi Stava dietro lo spinotto E regà Cioè Guardate che robetta Tutto per lui Tutto per lui ragazzi Lo andiamo a mettere immediatamente Guardate quanto è bello raga No vabbè è troppo È troppo bello ragazzi Non ci sto credendo Non ci sto credendo Allora Intanto quello lì lo devo pigliare Allora prima di andare avanti ragazzi Cosa faccio? Cosa faccio? Gli andiamo a dare le energie Cioè Gli andiamo a dare le energie E cerchiamo ovviamente Di portarla a un livello decente Intanto il cinquantino Dove becchi Byron il cinquantino A casa bluf Mamma mia raga che qualità Che qualità di gameplay Che qualità di chest opening Che qualità di sculodorti Cioè lasciate qui sotto nei commenti Sculodorti Lo trovavo anch'io Sculodorti ci sono anch'io Altre 75 energie raga Solo per lui Vai Byron vai Mamma mia E questo è il 200 che fa Ma non glielo dai Non glielo dai ragazzi 200 energie E questo può ruciccio Guarda che bello chiare E vai un altro centino Che fai Non glielo dai Non glielo dai Ma che stai a fa Ma che stai a fa Allora ragazzoni Io Prima di continuare il chest opening Direi di andare a provare Il fenomeno Ragazzi andiamo qui a provare Veramente in singolo Cioè non ce ne frega niente Grado 1 Livello 1 Poi lo andiamo a upgrade Troviamo altre energie Cerchiamo di maxarlo Cioè penso che vi possa andare bene Penso che si dai Si vuola Mamma mia Non vedevo l'ora Non vedevo l'ora Bello ragazzi Bello 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 Supercelli Ti voglio bene Supercelli Ti voglio bene Se anche voi volete bene La supercelli Ragazzi lasciate sto like Per il tortellone Allora qui Gli stiamo a sparare Il puzzino verde Mamma mia Ma che ho Gli stiamo a sparare Il puzzino verde Lo spruzzino Verde Oh 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 Kill Kill E' morto Regalo a velena Meraviglioso Ragazzi è veramente Veramente bugged Cioè dinamica di colpo Dinamica proprio De brawler Assurda Assurda Mi piace in casino Questo qui Come spara la ulti Va bene Oh Killettina Killettina La piglio io Me ne vado Mi sono curato Mamma mia ragazzi Ma che ho Ma che ho Ma chi sei Ma chi sei Sei tu il mago Sei tu il mago Fratelli Ragazzi ma poi Guardate che capello Che capello Oh qui come l'ho lasciato Qui come l'ho lasciato Qui come muori Ciao 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 Ma poi il colpo Ragazzi ma dove arriva Ma il colpo dove arriva Ma il colpo dove arriva Il colpo dove arriva No non t'ho preso Non t'ho preso ancora Ok 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 Bomberi Ci siamo Dai te te lascio campare Vediamo se ancora mi miri Ma miri solo a me Dai Ora mira a lei Ora mira a lei Bravissimo Mira a lei No L'ha nato spaccava Sto zingara Ragazzi Prima partita Prima win direi Direi che ci siamo Cosmin Dai vatti a ammazzarci Vatti a ammazzarci Fratelli lo vedi con chi sto Lo vedi con chi sto Lo vedi con chi sto E andiamo Prima win Ragazzi fa spavento La rega fa spavento Guardate che spocchia Che cinta Che bazzone Rega c'ha pure l'anellini C'ha pure l'anellini Meraviglioso rega C'è veramente la spocchia del nonnetto Rega Questo qui è il nonnetto con la spocchia Veramente Intanto qui prendiamo tutto Vai 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 Ci siamo Ah rega Cioè l'avete visto I danni sono elevati Cioè non so Non so che dirve Gli diamo due botte Gli diamo due potenziate Gli diamo due potenziate Si vede 20 Mamma mia Cioè partiamo da 400 Vediamo a quanto arriviamo Dai Ragazzi vediamo a quanto arriviamo Pluff Pluff E pluff Bene così abbiamo sblocato il gadgettino Ah rega Adesso andiamo a farmare un po' di energie E niente E niente Si prosegue Qui l'ho aperte tutte Sì mi sembra di sì Mi sembra che ce ne avevo tre E dico quattro Ok Ho aperto tutto Vabbè ragazzi La tecnica La tecnica possiamo dire che L'è stata È stata fatta Quindi adesso ce ne freghiamo E apriamo come Come si stanno qua Cioè è proprio easy Vediamo in quanto lo maxiamo Oggetto rimasto Byron più 33 Benissimo Benissimo ragazzi Veramente C'è sto winning Al bacio Lineare Preciso Una cremina Vai così 65 Vai 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 No 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 Questo qui non lo devo aprire Che fai che fai Il pacchetto reazioni Il pacchetto reazioni Non lo apriamo Ragazzi se mi fa trovare il gadgettino Io non ci sputo sopra eh Cioè se mi fa trovare il gadgettino Io Sono mucho mucho contento Sono mucho mucho contento Vai vai Dammi tutto Andiamo arrivare a 340 Sì 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 Fammi trovare il gadgettino Chico Vai vai Mamma mia Molto chill Ragazzi qui Si schippa Si schippa veloci Dobbiamo trovare energie Vai 320 Ci siamo Ci siamo Cassa enorme Ancora Pluff 130 49 Vai vai Ci siamo Ancora Ancora Mamma mia Mamma mia ragazzi Lo voglio Voglio il verdolino Voglio il verdolino Lo voglio qui Lo voglio qui Mamma mia Lo voglio qui Fammelo trovare Andiamo Andiamo Stichetichet Tortello Is a legend Tortello Is a legend Mamma mia Kit di pronto soccorso Byron sfrutta Una dei suoi attacchi Per recuperare 800 punti Salute Al secondo Per 3 secondi Uso per sconto 3 Cioè Ciao A Ciao 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 Sicura pure Ciao Ragazzi Ragazzi Io non so che div Io non so che div Lo andiamo a migliorare Lo andiamo a migliorare Ce ne mancano 500 di energie Ragazzi Troviamo pure la stellare Cioè Hypermaxed Mi stai a dire che lo stiamo a maxare Me lo sta a dire il gioco Regà Me lo sta a dire il gioco Non me lo sto a inventare Non me lo sto a inventare Regà Forse maxarlo Maxarlo è tosta Regà Il gadget era facile Trovarlo La No Vabbè Che cassa Tengo per dopo Mamma mia Mamma mia Me sta a fa maxare Accaud Me sta a fa maxare Accaud Me lo fai maxare Detro raccolto Regà L'anima Me succhio l'anima Sto già voglio succhiato L'anima Mamma mia Mortis Mie delle anime Del brawler Che sconfiggio Recuperando così 1800 punti mele Mamma mia Belle 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 Cioè ragazzi Abbiamo spaccato tutto Anche sto Certo Pening Ragazzi Esageratamente Esagerato Esagerato Veramente Cioè vabbè La mia cassa Andiamo a aprire La mia cassa Andiamo a aprire Me ne vediamo 200 energie Me ne dai 200 Mamma mia Quanto la predicto Ragazzi Ma quanto Ma quanto la predicto Quando apriamo Un'altra cassa enorme Ecco sì Quante me ne dai 41 352 Eh raga 150 Vediamo 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 Non lo so Se me le da tutte Aspettiamo L'aprimi Vai così 157 Ce l'abbiamo fatta No Piena quarantina Sfiga Sfiga ladra 25 Eh ragazzi Forse un'altra Forse un'altra blu Dai Damme 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 Dai Fai schifo Fai schifo Bastards Un'altra cassetta blu Più 10 Mamma mia Ma stai fa soffrire Però eh No Ho visto che si è illuminato Ma dai Mamma mia Un'altra blu Un'altra blu Ragazzi Mi sta a truffare Veramente Ma fatta apri Una cassa in più Sto schifoso Più 2 Più 2 Va bene Ci sta Ci sta Ragazzi È il momento del maxing È il momento del maxing Mamma mia 1250 Pluff è così Pluff è così ragazzi Livello 9 E l'abbiamo sbloccata Abilità stellare ragazzi Adesso dobbiamo solo trovarla Dobbiamo solo trovarla ragazzi Cioè dovete lasciare like Dovete lasciare like ragazzi Perché lo stiamo a maxare E forse mi tengo pure qualche Qualche cassa Rega Oh Non lo voglio strillare Però Però potrebbe succedere Però potrebbe succedere ragazzi Stiamo attenti Stiamo attenti Visionate il video fino alla fine Anche perché dopo ragazzi Lo andiamo pure a provare Molto bene Molto bene Te prego Te prego Dio della Supercell Fa che stai qui Te prego Dio della Supercell Fa che stai qui Sì 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 Ciao 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 E la maccarrena La maccarrena Babarabarabarabarabà E il tortellone E il tortellone L'ha maxato tutto qua Malessere ragazzi A me si c'è stupini che mi fanno pigliare Malessere perché non è possibile Ok? I nemici colpiti dalla super di Byron riceveranno anche il 50% In meno di salute Da qualsiasi fonte curativa per 9 secondi Ciao Ciao La torretta lo sai che dovete fa? Eh no Ve la toppate Ve la toppate Niente ragazzi annulla le torrette Annulla veramente il Todos Ah regà siamo arrivati alla soglia 28 Anzi no 29 regà guardate che robetta ancora Guardate che robetta Ragazzi questa qui ovviamente la lasciamo tutta per l'altro bro che uscirà Niente lo andiamo a provare Ragazzi voi che dite? Cioè tutto maxed Tutto maxed potrei sentirmi male Mi potrei sentirmi male ve lo giuro Assurdo assurdo Con veramente 20 casse 30 casse Super super chill Oh sì Sono io Stellarino Stellarino Armando Stellarino Armando Bim Ciao Sì zompa dai zompa Zompa la prossima però dai Ciao 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 Non ci sto credo ragazzi Non ho parole Ve lo giuro ragazzi Balbetto perché non ho parole Fa spavento ragazzi Spocchi e potenza in un unico brawler Regà Cioè danno cura tutto 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 Sto brawler fa tutto ragazzi Gli mancava che volasse Che volasse Niente C'aveva veramente il world Regà partita vinta con Non lo so Il bastone basso Bastone basso regà Cioè guardate Sono tutti morti Tutti spacciati Io non lo so Voglio arrivare a 8000 di vita Questo sta a fare il caffone Ma non li prende Non li prende Devi stare qui E zitto Vai via Li prendo tutti io Sfigato Devi venire a massaggi Cioè non puoi Contro Contro 11 power ups Non puoi Fratame Fratame non puoi Sopra la cura Vieni qua Arrompe Le scatole A lui Full vita Ciao Vi saluto così Col bastone che rodea La pozione verdolina Lui maxato Non so che altro fare Su questo video Ho fatto tutto Grado 3 Ciao Ciao Esito posizione Solo plutonio Ragazzi Io vi ringrazio per la visione Se siete arrivati fino a questo punto Io spero che vi sia piaciuto il video Cioè non potevo fare altro Ve lo giuro Ho fatto tutto Ho fatto tutto Guardate che stile Guardate che stile Cioè Il tortellone Eccolo Il pazzo Byron È con me Ragazzi Io vi saluto E vi ringrazio Vi mando Un bacio Dal vostro tortellone di fiducia Vi aspetto In un prossimo video Vi attendo anche Su twitch Tortello Ytv Mi raccomando ragazzi Passateci Stiamo puntando All'affiliate E ovviamente ragazzi Continuano a seguirmi Anche su instagram Tortello Tino un basso di gr E ovviamente su youtube A catap Ciao 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 Ciao